Ciao, sono Gianmario Bertollo. So che ti stai facendo una domanda. Perché dovrei affidare i miei problemi con le cartelle esattoriali a voi dei rottamatori? Sì, insomma, non potrei farmi seguire dal mio commercialista o dall'avvocato di famiglia o qualche altra associazione che magari dichiara di occuparsi dei casi di debiti con l'agenzia delle entrate? Se ti sei fatto questa domanda significa che non vuoi affidare al primo che capita una situazione così delicata. Fai molto bene a fare questa scelta, accurata e ponderata. Permettimi di darti qualche informazione che magari ti può aiutare. Ad esempio, quando hai un problema serio al cuore, vai da un ortopedico? Se devi fare la denuncia dei redditi, vai da un architetto? Già rispondendo a questa domanda forse hai capito che non tutti sono in grado di parlare di un argomento così complesso con apertura, trasparenza e sicurezza. Eh sì, per risolvere problemi gravi ci vuole moltissima preparazione ed esperienza. Ci vuole uno specialista. Lo staff dei rottamatori, formato da professionisti affermate e preparati, già da anni studia i metodi per aiutare le persone afflitte dai debiti con il fisco, seguendo ogni mese con successo decine e decine di pratiche. Il nostro gruppo di professionisti ha lavorato per moltissimi anni in Equitalia. Il nostro avvocato di punta ci ha lavorato dentro per 20 anni. Chi meglio di lui conosce le regole e i meccanismi di questo mostro burocratico? E soprattutto, chi meglio di lui conosce i difetti da sfruttare per farti pagare solamente quanto devi pagare? In Italia siamo l'unico gruppo di veri specialisti nel settore tributario e da molti mesi applichiamo con estrema precisione tutte le procedure necessarie per ottenere dei risultati. Permettimi un consiglio, non affidare al primo che passa il tuo delicato caso. Non diventare il banco di prova di qualche professionista che sta tentando un qualche esperimento. Hai un'unica opportunità di fare la giusta scelta, affidandoti a chi veramente può aiutarti a trovare la soluzione. Se desideri toglierti qualsiasi dubbio, parla con il tuo consulente personale dei rottamatori oppure scrivici a info-i-rottamatori.it. Ascolteremo personalmente le tue riflessioni e saremo in grado di sciogliere qualsiasi tuo dubbio. Ci vediamo nei prossimi filmati.